Doveva quindi passare per la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria, detta Sicar, vicino alla tenuta che da Giacobbe fu data suo figlio Giuseppe, dove era pure il pozzo di Giacobbe. Ordunque Gesù, stanco del viaggio, stava a sedere così com'era presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Venne ad attingere acqua una samaritana. Gesù le disse, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Ma la samaritana gli rispose, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana? Che i giudei non hanno relazione coi samaritani? Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa forse ne avresti chiesto a lui che ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, signore non hai con che attingere e il pozzo è profondo. Donde hai quest'acqua viva? Sei tu forse più di Giacobbe nostro padre che diedi a noi questo pozzo e vi beve lui stesso i suoi figli e il suo bestiame? Ma Gesù le rispose, chi beve di quest'acqua tornerà ad aver sete. Invece chi beve l'acqua che gli darò io non avrà più sete in eterno, che anzi l'acqua da me data diventerà in lui fontana d'acqua viva, zampillante in vita eterna. E la donna, signore dammi di quest'acqua affinché non abbia mai più sete e non debba venire qua per attingere. Gesù le disse, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Non ho marito, rispose la donna. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché ne hai avuti cinque e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto la verità. Gli disse la donna, signore m'accorgo che tu sei profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che il luogo dove bisogna adorare è in Gerusalemme. Gesù le rispose, credimi donna, è venuto il tempo in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità, che il Padre vuol tali adoratori. Dio è spirito e quei che lo adorano devono adorarlo in ispirito e verità. Gli disse la donna, so che ha da venire il Messia, che vuol dire Cristo. Quando sarà venuto lui ci istruirà di tutto. E Gesù a lei, son io che parlo con te. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse che cerchi o di che parli con lei. Ma la donna lasciò la sua brocca e corse in città a dire a quella gente, venite a vedere un uomo il quale mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia il Cristo. uscirono pertanto dalla città e andarono da lui. In quel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo maestro mangia. Ma egli rispose loro io mi nutro di un cibo che voi non conoscete. I discepoli dicevano perciò tra loro forse qualcuno li ha portato da mangiare. Gesù disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e così compiere l'opera sua. Non dite voi ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico alzate gli occhi e mirate le campagne che già biondeggiano per le messi. Or chi miete riceve la mercede e raccoglie frutto per la vita eterna. Si che ne goda insieme chi semina e chi miete. In questo proprio s'avvera quel proverbio altri semina e altri miete. Io vi ho mandati a mietere dove non avete faticato. Altri hanno lavorato e voi siete sottentrati nel loro lavoro. Or molti samaritani della città credettero in lui per le parole della donna che attestava ma ha detto tutto quello che ho fatto. Andati adunque da lui quei samaritani lo pregavano a trattenersi con loro. Ci rimase infatti due giorni e molti più credettero in virtù della sua parola e dicevano alla donna noi non crediamo già per la tua parola ma perché abbiamo noi stessi udito e conosciuto che colui è veramente il salvatore del mondo.